Fuori da contatto, perché vorrei ridarvi la consapevolezza che vi serve quando pallinate per conto vostro. Nel pugilato per esempio c'è shadow boxing, ne altre arti marziali chiamano le forme a vuoto, noi abbiamo le forme, abbiamo Sanchenpo, abbiamo Siaulintou, abbiamo tutta questa serie di situazioni che ci servono per focalizzare l'attenzione sul rilascio di energia, su quello che dobbiamo fare quando combattiamo. Il problema qual è? Che quando vi lasciamo tutti gli insegnanti da soli e dico ok alleniamo il Pogba, il primo Pogba magari ci mettete il 100%, lo mettete là, rilascio, boh, tutta bomba, tutto bene. Dopo un po' comincia a diventare questo. Ok? Sta roba qua. Quello che vorrei vedere da voi invece adesso è il massimo della concentrazione nel fare questa box a vuoto. Ora che voi utilizzate i pugni, Orientation Program, pugni, solo pugni, nella leadership, Popba, Kimba, Kota, Tunba, quello che volete voi, è indifferente, non mi interessa. Quello che mi interessa però è che quando vi muovete e vi focalizzate sull'avversario ci deve essere l'azione di rilascio e di impulso sempre costante, quindi è 0-100, 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 0-100. Ogni colpo deve essere portato al 100% e rilasciato, rilascio, 0, rilascio, 0, come se davanti ci fosse uno. Che cosa sta a fare quello davanti a voi? È chiuso, è stretto e sta cercando di fare questo. Ok? Quindi che voi usate i pugni, che voi usate i Pogba, Kimba, Kota, Chiam, liberi per due minuti, poi vi faccio fare un'altra cosa e poi rifacciamo due minuti di questo. Però questi due minuti ci dovete mettere tutta l'energia che c'avete. Ok? Im, Shiam, Yang, Shiam, quello che volete voi. Ok? Vai, siete pronti? Ognuno sul proprio quadrato. Obiettivo sta di fronte a voi, voglio vedere gli occhi che guardano di fronte a voi e scaricate tutti i colpi che sapete che è la capacità. Quindi non posso più rimanere in Ciambe, non posso più rimanere in ferro, e lo muove collegato, movimenti piccoli, corti, stretti, mezzo di tiro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Prego!